Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo. L'aspetto da antico vascello, unito alle più moderne tecnologie, l'eleganza delle rifiniture in oro, la maestosità della manovra e della salita arriva, sono ormai noti, ma quello che forse ancora non tutti sanno è che la nave scuola più antica del mondo banta molti numeri dal record. È stata varata il 22 febbraio del 1931, esattamente 419 anni dopo la morte dell'esploratore di cui porta il nome. La sua lunghezza supera i 100 metri. L'estensione totale delle vele copre la superficie di sei campi da basket. La lunghezza delle cime è pari alla distanza tra Livorno e Pisa. L'equipaggio imbarcato durante l'addestramento estivo supera le 360 unità. L'esperienza di addestramento sulla nave, impegnativa e senza distinzione di genere per quel che riguarda la suddivisione dei compiti a bordo, viene raccontata da testimoni di ogni età come un'avventura unica e indimenticabile. La mostra La più bella del mondo, nave Amerigo Vespucci, con fotografie di Machi Galimberti e Massimo Sestini, sarà visitabile al Museo della città di Livorno fino al 30 ottobre 2022. Questa è la mia missione per l'individuo e collettivo. Questa è la mia missione per l'Ouest.